Come dice quella, signor Montrucchio, come dice che si concentri, signor, dicca dicca. Ma andavo da papà gli dico, signor Montrucchio, e quello dice, chi è il musso Montrucchio? Ma tanto lui non l'ha visto, l'ha vista ma mi sa che neanche se la ricorda. La scarpetta nel piatto? Mai! No, la scarpetta nel piatto? Mai! Ma io non andaccia al ristorante, vero Cahier? No, la scarpetta nel piatto? No, la scarpetta nel piatto? No, la scarpetta nel piatto? Ma Cici, dammi una sigaretta che ho finito, va? Fai il bravo!